C'è una nave romana fuori, al largo di Giulianova, più o meno dai 20 ai 22 miglia dalla costa, ad una profondità di 100-110 metri, in un'area denominata, in dialetto non so nemmeno se si pronuncia bene così, dove sta le triboli triunfante. Sono queste le importanti dichiarazioni del regista Alessio Consort, rilasciate durante la trasmissione di pomeriggio, il rotocalco pomeridiano di Rete 8, in onda tutti i giorni alle 15.30, che ha svelato in esclusiva questa scoperta mozzafiato. Secondo le informazioni fornite da consorte, la nave trasportava un carico considerevole di anfore, di cui alcune furono recuperate negli anni 70 da motopescherecci della zona. Tuttavia il relitto sarebbe ancora presente sul fondale marino, conservando probabilmente una parte significativa del suo carico e delle ricchezze trasportate. Pensavano fossero delle bombe della seconda guerra mondiale, di fatto hanno tagliato subito le reti, hanno le buttate a mare, sono scappati, non riuscivano proprio a tirare più il motopeschereccio avanti. Quindi un abbondante dieci anfore sono tornate sul fondo, quattro o cinque si sono spaccate, perché chiaramente col bericello che tiri su è chiaro che non fa in tempo, perché non sapevano cosa avessero pescato. Una riuscita dalla pescara e l'aprirono, fu analizzato il contenuto ed era una cera ad api perfettamente conservata di 2100 anni fa perché fu fatta analizzare. La presenza di una nave romana ben conservata e carica di tesori potrebbe aprire nuove prospettive di ricerca e studio nel campo dell'archeologia subacquea. ...dicare le camere lì giù e fare vedere, comunque le anfore arrivano da questo orelitto romano e ce ne sono in giro, io poi ho approfondito la questione, almeno una ventina. Tutto questo risvolto mi porta a fare un altro tipo di inchiesta, perché poi tutte queste anfore frantumate che sono cadute sul fondo, pian piano, pian piano, con le mare si sono spostate in un luogo. E' certo. Però di questo luogo e adesso non posso... Ovviamente il regista consorte è invitato alla cautela e al rispetto del sito archeologico, sottolineando l'importanza di condurre eventuali operazioni di recupero e studio in modo responsabile nel pieno rispetto delle normative vigenti. ... ... ... ... ...